Quella delle ricorrenze legate a personaggi del mondo del viaggio che in qualche modo hanno dedicato la propria vita al viaggio ce ne ha parlato in diretta per noi da Firenze l'ideatore di questo festival, vediamo Sono gli anniversari viaggianti, cioè tutto quello che può riguardare il viaggio di alcuni grandi viaggiatori di cui quest'anno ricorre l'anniversario, mi riferisco alle celebrazioni del centenario per Fosco Maraini alle celebrazioni Vespucciane che ricordano i 500 anni dalla morte di Amerigo Vespucci e una cosa un po' singolare, il settantesimo compleanno di Jimi Hendrix che non è stato un grandissimo viaggiatore, nel senso che non si è mosso molto però ha fatto viaggiare tantissime persone con la sua musica Il Festival del Viaggio vuole quest'anno rendere un omaggio ai notturni fiorentini e quindi abbiamo organizzato tre passeggiate due sono passeggiate storico-artistiche sulle vie romè insieme a uno storico dell'arte e a un geostorico che racconteranno in questo percorso itinerario lungo il centro storico nord della città tutte quelle che sono le chiese, la storia dell'arte dal Medioevo al Rinascimento diciamo poi la punta più importante della cultura che Firenze ha propagato nel mondo e il terzo notturno fiorentino organizzato con lo scrittore Marco Vichi, il giallista che ha scritto molti romanzi del commissario Bordelli proprio ambientati nella città di Firenze qui nella zona di Oltrarno, quindi nella zona sud del centro storico della città ci sarà un notturno fiorentino tra i misteri della città da Dostoieschi al commissario Bordelli il viaggio.it oppure sull'associazione che gestisce questo festival e che è la Società Italiana dei Viaggiatori di cui fanno parte Franco Cardini, Filippo D'Averio, Vinicio Capossela e cioè www.societadeiviaggiatori.org diciamo che il festival è iniziato in questi giorni si conclude sabato 9 giugno però poi ci sarà un appendice a Palermo dal 22 al 28 bye bye on video l'avventura di Blockbuster Italia finisce